In migliaia sono scesi in piazza a Bonn, in Germania, per chiedere misure più drastiche per combattere contro il riscaldamento globale. A poche ore dall'avvio della COP23, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite che aprirà i battenti lunedì, i manifestanti provenienti anche da Francia e Paesi Bassi hanno chiesto che venga abbandonata l'energia fossile più nociva, quella prodotta dal carbone. I governi internazionali e gli stati finora non hanno fatto abbastanza, il governo tedesco in particolare non ha fatto nulla per rendere possibile una vera protezione del clima, il che sarà possibile soltanto quando usciremo dal carbone ed ecco perché occupiamo le miniere delinite con i nostri corpi per fermare la distruzione lì dove inizia. La conferenza sarà presiedita dalle Fiji, uno degli arcipeladi minacciati dall'innalzamento del livello dei mari sul palcoscenico tedesco o 390 nazioni per provare a rendere operativo l'accordo di Parigi nonostante la retromarcia di Donald Trump che ha fatto uscire gli Stati Uniti dall'intesa transalpina.